Buongiorno a tutti, io sono Carlo Giussani, sono il direttore della neurochirurgia, il direttore della scuola di specializzazione neurochirurgia di Campi-Cocca. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti della fondazione perché veramente ci hanno omaggiato di un grandissimo dono che nelle mani neurochirurgiche andrà a cambiare il paradigma chirurgico di come vengono svolti gli interventi microchirurgia. La nostra disciplina è molto basata sulla microchirurgia, quindi sulla qualità dell'immagine, sulla grande conoscenza anatomica, ma è una chirurgia che porta a momenti di grande affaticamento e di stanchezza del chirurgo per la tipologia di interventi molto lunghi e per le posizioni obbligate del paziente a cui noi dobbiamo chiaramente inchinarci per cercare di ottenere il massimo risultato. In modo particolare il nostro ospedale da tanti anni è un hub per tante emergenze neurochirurgiche, territoriali, anche extraterritoriali, nell'ambito sia della malattia cerebrovascolare che oncologiche e tra queste, soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi quinquenni, abbiamo sviluppato, devo dire, un interessante punto di riferimento per la patologia oncologica pediatrica per i bambini affetti da tumore cerebrale grazie anche alla collaborazione con l'Istituto di Tumore di Milano con cui noi collaboriamo molto strettamente in modo preoperatorio e postoperatorio.